buonasera a tutti e benvenuti strano fatto questa sera parliamo di clown si proprio di clown quello mino con la pallina rossa sul naso la parucca bionda vestito in maniera sgargiante quello che fa ridere i bambini quello del circo quello che abbiamo visto comunque in televisione insomma una figura sorridente una figura positiva una figura che che ci fa del bene in generale ora di clown se ne è parlato anche invece in maniera negativa preoccupante pericolosa terrorizzante se pensiamo a stephen king al film it dove c'era il clown sempre vestito come vi ho detto però cattivo che faceva del male film dell'orrore quello che via l'una via l'altra idea sta di fatto che gli stati uniti ma non solo loro hanno un problema con i clown in che senso i clown spaventano gli stati uniti ci sono decine di avvistamenti in giro e la polizia dice sono pericolosi stati attenti ora stiamo parlando di fatti che sono iniziati anche già nell'agosto nel sud caroline a greenville dove un bambino tornava a casa di corsa dalla mamma dicendo di essere stato avvicinato da due uomini vestiti da clown che volevano condurlo nel bosco e questo è un fatto che potrebbe essere un fatto isolato no interviene la polizia per trovare questi questi personaggi e insomma cercare di approfondire la questione sta di fatto che in realtà altri clown sono stati avvisati successivamente decine di avvistamenti proprio come nel film di 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 stephen king pagliacci che fanno paura ed ancora in almeno dieci stati degli stati uniti dalla pennsylvania all'ohio al texas avvistamenti di altre persone vestite da pagliacci sempre persone che cercano di attirare i bambini portarli nel bosco è stato chiamato il 911 che è un po il nostro 112 per avvisare quindi la polizia e altri clown trovati dentro un'auto vicino a un istituto di ragazzo nel connecticut è stato imposto il divieto di vestirsi da clown in alabama dei clown sono stati incriminati per minacce terroristiche nell'oiuta la polizia ha ribadito che è illegale sparare ai clown perché qui girano un pochino tutti tipo far west però sta di fatto che c'è preoccupazione perché viene richiesto di segnalarne gli avvistamenti ora non è una campagna di marketing perché di solito mi viene in mente star trek mi viene in mente star wars ci sono un pochino i prequel quelli che vanno in giro vestiti in un certo modo ad annunciare un film magari il secondo film di hit di stephen king e quindi clown che vanno in giro a fare pubblicità però insomma che portino cerchino di portare i bambini nel bosco o siano vicino ad istituti o siano comunque molesti non ci fa pensare tanto a una campagna di marketing tant'è che anche la warner bros ha detto signori non centriamo niente noi sì stiamo preparando un altro film ma non abbiamo mandato in giro omini vestiti da clown per fare per fare pubblicità vabbè fenomeno americano di questa estate strano però fenomeno americano non è solo così perché adesso i clown sono anche in gran britannia bambino un uomo vestito da clown armato di coltello in gran britannia ha seguito un gruppo di bambini di 11 12 anni fuori dalla scuola nella contea di darham altra polizia della regione del nord ambria ha postato un messaggio facebook per dire attenzione ai clown non pensiamo che ci siano rischi ma se li vedete state sempre attenti e magari avvisateci un po come negli stati uniti e a liverpool un uomo vestito da clown è stato visto a girarsi per la città un'altra persona travestita da pagliaccio è stato visto in un parco giochi nel nord del galles nell'essex due uomini mascherati da clown sempre avvistati a brotton altri clown avvistati tutto questo pare abbia origine in questa follia che sta un po prendendo piede in america dove i clown spaventano e minacciano le persone fobia che sta dilagando ci mancava anche quella di clown adesso qui non ne abbiamo visti questo e potrebbero venire in mente a tutti delle battute che non faccio diciamo che gli clown ufficiali di questo genere non ne abbiamo visti ci auguriamo di non vederli ecco segnaliamoli anche noi qualora dovesse dovessimo avvistarli grazie